Immagina! Immagina un nuovo modo di insegnare storia dell'arte, con le immagini d'opera come vere protagoniste della scena. Immagina di avere un immenso museo sempre con te, a casa e a scuola, online e offline, facile come Google e racchiuso nel minuscolo spazio di una chiavetta USB. Da oggi, con il nuovo Museo Digitale di Rizzoli Education, tutto questo diventa realtà. Che aspetti? Proviamo a immaginare insieme! Naviga fra oltre 2500 immagini d'arte ad alta risoluzione, perfette da proiettare in tutta la loro potenza espressiva. La funzione Zoom ti consente di mettere in risalto i più piccoli dettagli stilistici. Cerca le immagini nel museo. Puoi farlo semplicemente, attraverso autori e titolo dell'opera. Oppure, con la ricerca libera, puoi rintracciare specifici soggetti, correnti e tecniche artistiche. Confronta le immagini per una lettura d'opera davvero efficace. Seleziona le tue immagini preferite e crea playlist personali. Saranno tracce già pronte per le tue lezioni. Nel Museo Digitale trovi delle playlist già pronte, con percorsi tematici e regionali, pensate per te dai nostri autori. Puoi anche stampare le schede d'opera e di confronto come materiale per le attività in classe. Lasciati ispirare dal sistema di geolocalizzazione. Con uno strumento familiare come Google Maps, puoi visualizzare l'esatta posizione di un'opera d'arte. E con la funzione Ricerca per prossimità, si scoprono quali altre opere sono presenti nel territorio. Museo Digitale Rizzoli Education. Tutte le immagini d'arte che la tua immaginazione ha sempre sognato. Grazie per la visione!